E' bello a tutti ragazzi, qui è Enrico Golden Gaming e benvenuti in questo nuovo video. Oggi giochiamo a Minecraft e oggi non continueremo la casa dell'altra volta perché l'avevo salvato il mondo dell'altra volta ma appena sono entrati in quel mondo mi sono ritrovato qua. Però oggi, visto che abbiamo fatto quello che abbiamo fatto l'altra volta, costruiamo solo una casa, non andremo in cerca perché sennò perdiamo tempo. Ah, vi dico che da questo video e anche nei prossimi di Minecraft taglierò delle parti per non rendere noioso il video. Ah, però per questo video lasciate un'altra pollicione su, iscrivetevi al canale e iniziamo. Ok, prima di tutto prendiamo blocchi di legna dagli alberi. Ok, prendiamo tutto questo albero. Ok, poi prendiamo questo. Ci basta anche l'altro blocchi e basta. Prendiamo su tutto questo e basta. Prendiamo questo che sopra di noi. Ok, preso possiamo iniziare a trattare una crafting table. No, aspetta. No, aspetta. Aspettate. Ok. E ci facciamo una bella crafting table. Aspetta. Come si fa? Ok. E ci facciamo anche qualche stick. Ok, qui così può bastare. Aspettate. Non possiamo fare niente. Va bene, può bastare. Ok, la costruiamo vicino a un posto dove ci sono alberi. Potremmo costruirla qua, tipo. Sì, qua. Visto che siamo vicini anche agli alberi. Anzi, avviciniamoci ancora di più. Allora, la facciamo tipo qua in una forma strana. Intanto togliamo le erbacce. Allora. Via, 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 via. Via. Così abbiamo anche un albero vicino da prendere legna. Ok, qua c'è già un blocco. Ok, costruiamo la casetta. Allora, sarà di una forma piuttosto strana. Poi qua. Bene, che qua. Aspetta che prendiamo un po' di terra. D'acqua. Ah no, aspetta perché se no cado nel buco. E non sarebbe una bella cosa. Aspetta che prendo terra. Allora, questo. Ok, dovrebbe bastare in teoria. Allora, aspettate che metto. Ok. Ragazzi, ho solo usato la terra per fare questo. Ma ho trovato un modo per fare questo. Possiamo fare tipo che qua c'è qualcosa. Poi quando arriviamo qua c'è tipo una scalinata. Dove c'è qualcosa. E anche lì c'è una scalinata che si può andare su. Qua c'è tipo... Eh... Boh, non lo so. Potremmo metterci qualcosa. Allora continuiamo a costruire. Abbiamo un po' poca legna. Sfortunatamente. Ora ci vediamo appena abbiamo costruito un po' di casa. Ragazzi, ho finito i muri. Ho messo anche la porta. Vi faccio vedere dentro. Allora, fuori è molto bello. Ah, ora inizio il tetto. Lo voglio fare piatto. Allora, qua ci ho messo una crafting table. Ah, là metterò anche un tavolino per mangiare. Lo metto qua. Ok. Dentro, come avete visto, è molto bello. Lo vi faccio vedere anche un po' fuori. Ha una forma bella. Eh... Se mi piace, dai. Ok, ci vediamo appena ho fatto il tetto. Ok, ragazzi. Tetto finito. Ah, e guardate cosa ho notato. E anche qua... Eh... Questo pezzo di muro fa questa cosa che... Rende la casa molto bella e strana. Ah, ora... Eh... Vi saluto. Non dentro perché è buissimo. Vi faccio vedere. Guarda, sembra di stare... Non so dove, ma... Ah, qua c'è sempre la crafting table. Ah, qua ho usato due legni diversi. Eh... Uno di petulle e uno di qualcosa. Però non lo so. Ah. Qua ho messo una porta, semplice. Quindi... Con questo bel sole e questo bel cielo azzurro, tranne queste nuvole, volevo dirvi di lasciare un bel pollicione su, iscrivetevi al canale e ciao a tutti! Ciao! 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 Grazie a tutti.